I locali del supermercato Simpli di Via Isole del Capoverde di Ostia sono stati riconsegnati alla proprietà. Per i 40 lavoratori si sono aperte due possibilità, nessuna particolarmente allettante, cassa integrazione oppure mobilità incentivata. La maggior parte ha deciso di farsi licenziare a fronte di una buona uscita, altri pochi in verità sperano di essere riassorbiti. I lavoratori al momento stanno tutti in cassa integrazione ma noi eravamo in attesa di un passaggio, una cessione di ramo d'azienda affinché tutti i lavoratori potessero continuare a lavorare. Di fatto si è interrotto un accordo che noi avevamo firmato, sottoscritto in data 4 settembre. Oggi la cosa più spiacevole è sapere che ci sono delle voci che in questo negozio si continuerà a svolgere l'attività di vendita al dettaglio di genere alimentari, però non ci sarà nessuna assunzione di responsabilità né da parte della proprietà né da chi subentrerà al fine di garantire a questi lavoratori di continuare a poter lavorare. Oggi sono rimasti 19 lavoratori perché negli ultimi 4-5 giorni c'è stata un'accelerazione e i lavoratori per paura terrorizzati hanno preferito aderire al licenziamento senza opposizione, prende l'incentivo a andare in Naspi che vedersi appesi è possibile, che non può assumere 19-20 dipendenti, un supermercato che fino al 30 settembre ha lavorato con 30 dipendenti e che il fatturato sulla piazza di Roma e provincia non andava tanto male, era uno dei migliori mercati. Io sono un padre di famiglia con due bambini, 3 e 6 anni, io ho firmato per l'adesione alla mobilità incentivata, non so contento ma sono stato messo con le spalle al muro. È stata una cosa vergognosa, è stata una cosa vergognosa perché queste persone, queste persone hanno vissuto un disagio incredibile, incredibile, venire a lavorare col supermercato vuoto, senza rifornimenti, senza niente, l'abbandono totale. Che ha aperto questo negozio sono 9 anni, ha aperto nel 2011 e io ho fatto il primo cliente, ho regalato una bottiglia di champagne al primo cliente, al primo scontrino. Sono 24 anni che sono in azienda e ne ho 48, quindi metà della mia vita l'ho trascorsa praticamente con questa azienda. Io sono una di quelle persone che ancora non ha firmato la buona uscita, perché intendo combattere fino alla fine e voglio garantire per me, per la mia famiglia, ho un mutuo, ho un figlio e per i miei colleghi che stanno tutti alla mia stessa situazione. Voglio provare a fare qualcosa per farci riprendere. E infatti a fare qualcosa per questi lavoratori dovrebbero essere proprio le istituzioni. È importante che il decimo municipio faccia pressione affinché la nuova catena che si insedierà, perché sicuramente lì nascerà un nuovo supermercato, riassorba i lavoratori che almeno per ora non hanno accettato la buona uscita.